E poi l'anno scorso a Salerno dove ho una delusione su tutti i punti di vista. Salerno ha delle sue suoni sotto tutti i punti di vista su questa frase e io ci tornerò durante la trasmissione. Poi sono arrivato a Salerno con un po' di ritardo perché ho filmato a settembre. Purtroppo mi sono infortunato, ho fatto una ricaduta, ho chiesto di andare a giocare con la primavera, quindi sono andato a giocare. Mi sono messo a disposizione, a gennaio ero pronto e poi ho giocato poco. Il poco che ho giocato penso che ho dimostrato che comunque potevo ancora giocare. E poi ho avuto tante promesse di rinnovo di contratto dove ho fatto dei sacrifici, dove ho rinunciato a dei soldi. E alla fine i due anni di contratto che mi aspettavano di promessa ma pure sul contratto non c'è stato nulla. Quindi è stata una delusione perché io quando ho chiesto, quando sono andato lì a parlare con il direttore, ho chiesto guarda, nel passato ho avuto delle brutte esperienze. E quindi per favore facciamo le cose fatte bene. E lui mi ha detto guarda non ci sono problemi, io sono uno di parole e alla fine guarda mi ritrovo... Le parole le porta via il vento. Sì, sì, vabbè si impara sempre però non me l'aspettavo perché ho dato disponibilità, ho fatto tutto, ho fatto bene e poi vabbè il calcio è così.